andiamo si qui che cazzo fai? ho messo via la switch moro devo fare la storia? no, anzi ti consiglio di andare a vedere la storia fammi vedere che? amici sto cadendo ma che cos'è? l'ho dovuta rifare questo è un inside joke che potreste sapere ma anche non sapere ma io ve lo dico così voi che siete qui nella diretta a quest'ora lo sappiate l'ho fatta due volte la storia perché la prima volta ho detto hai sbagliato a scrivere? no, ho detto ah sto cadendo come su Fall Guys come Liezar è diventata la cosa di Liezar che c'è Fall Guys Liezar ti consiglio di accendere un lumino però che sei diventato un personaggio ah devo fare una cosa aspettate arrivo subito buonasera 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 ben arrivato sei comodo? seduto quindi ben presumo di sì sono contento voi tutti comodi? seduti quindi dai grazie Brozorf amici io vi devo chiedere una cosa ai più esperti del mondo giapponese ma non assolutamente a Liezar che non ne capisce niente da questa parte del mondo giapponese grazie colore verde volevo chiedervi grazie colore verde io oggi ciao Fabri ho fatto un acquisto ho fatto no? e non è quello che ho in mano quello che ho in mano sono no è il tuo membro questi sono quattro volumi di Berserk alla vostra ragazzi alla vostra un bel Actime il Marco wow questi qui sono quattro volumi di Berserk che avevo in casa che erano di mio fratello che li ho ritrovati adesso sistemando di là e sono il numero 2, 3, 8 e 11 allora cosa ho fatto? sì cosa ho fatto? ho detto mi compro almeno l'1, il 4 e il 5 così se mi faccio almeno un minimo di linea temporale almeno posso iniziare a leggere il discorso qual è? che qui mi servite voi in aiuto voi che sapete un sacco di roba voi che avete letto Berserk più che altro ai tempi nel 2000 però se l'avete letto nel 2000 per favore perché questi sono del 2000 perché questa è la serie rossa è la serie rossa che è la prima serie di Berserk adesso vendono la serie nera che sono è la Deluxe no la Deluxe è il volumone la serie nera è uguale viene considerata la nuova edizione comunque sì però è una roba diversa la serie nera è uguale a questa con le stesse artwork davanti e tutto però hanno il bordo nero con l'arghina rossa qua però hanno lo stesso artwork e lo stesso numerino qua sopra alla costa hanno il numerone sopra qua su sono uguali quindi ho detto sarà la stessa roba mi confermate che è la stessa roba? non è che ho fatto una cazzata perché poi tra l'altro mi sono accorto questo è un manga ma si legge dritto si legge ah allora è un fake si legge da davanti si legge l'hanno europeizzato si legge da davanti ma che posto ragazzi quindi devo fare swim 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 allora è la nuova lobby che hanno messo a Berker si legge dritto in generale ok però mi sapete confermare se la serie nera e la serie rossa possono combaciare? io non è proprio uguale ma dai è un agnam pensate quanto hanno iniziato dal finale eh sì dal finale del primo volume chissà ne frega ci arrivi ah però humanfall guys intanto diciamo qua che ci stiamo girando per la lobby è nuovissima è molto bello è fatto bene molto carino ma io perché se mi sdraio non riesco mai più a tirarmi su? io ho rossa nera insieme va bene così ma qui ci sono tanti tasti da premere ma non ci si può più buttare all'indietro no all'epoca specchiavano i manga ma lì non c'è più ma la serie nera è sempre uguale cioè la serie nera anche quella si legge dritta grazie a Lorin ho premuto quel tasto libro non ha fatto nulla secondo me vanno premuti tutti ma qua c'è un pesce che taggiva si mi ora è morto ragazzi tra l'altro non tanto tempo fa no a me va ragazzi va si scatta tantissimo a me no no non scatta mi va in ritardo come connessione dico come c'è lag forse perché stanno entrando loro forse io sono dentro sono comunque non si butta più all'indietro il personaggio non si mette più da seduto sui gomiti a fare no 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 grazie Pasquindustry grazie Pasquindustry no 4 mesi guarda che dance guarda che dance macca non è così eh non lo fa a me lo fai con la B con la X no con la X i volumi che ragazzi sono posto soprattutto quello di Luke ma sono ma Federico grazie Federico Federico grazie Federicone grazie per i 5 abbonamenti amici mi raccomando rinnovate rinnovate che c'è da rinnovare rinnovate rinnovate controllate anche che non vi si sia disattivato il rinnovo automatico eh ve lo ricorderemo per un po' che c'è stato qualche problema di Twitch a quanto car ma chi l'avremmo mai detto ma è caduto un orecchio ma se io premo questo orecchio no un piatto sembra un orecchio ma dov'è Luke che lo voglio picchiare Luke qua ci sono dei vasi dei ma è figissimo è fatto veramente bene dei giapponesi random oggi Luke mi ha passato una roba di the batman veramente bella però non posso dirlo perché poi è la scena tagliata la scena tagliata veramente bella però non vabbè non dico perché non si può dire oh cami grazie per il ride oh cami grazie per il ride grazie mille grazie io sto facendo già io sto già facendo una roba qui ma questo non è questo è un livello è la lobby eh sarà quello che ti pare ma io sto facendo roba ma mi sa che c'è dei segreti anche qui assolutamente si si no sarà pieno di seguenti ma l'hai fatto cagare ho visto ma perché sei un poliziotto ma tu perché sei un cane ancora cos'è che figura è questa qui qui in mano Marco è una pigna ma che cazzo dici questo è un serpente che cos'è sembra si sembra un rettile ah ma bisogna metterle tutte qui le statue e allora portiamole tutte aspetto è sicuramente un besen questo è un polio come buono le hai steso l'abbonamento regalato da Federico grazie ma grazie mille grazie 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 l'hai ricevuto adesso adesso dov'è che bisogna portarlo ho la statua di un toro io ho un lupo ragazzi amici ce la facciamo per far impennare l'hype train che siamo al dai amici al quattro livello al quattro livello siamo dai amici che qua dobbiamo rinnovare questo dovrebbe essere un lupo grazie mille è il lupo qua oh mi sono impicozzato dunque dicevo mi confermate che la serie nera si legge sempre dal dritto quindi la mantenuta dal dritto o quella si legge la serie nera di Bersar hanno detto che è normale quindi si legge al contrario si legge come lo stai leggendo tu quindi alla europea pigli questo oracolo ma anche un coniglio e anche l'altra presumo anche l'altra scusami la serie si legge dritta all'italiana vedi si moro su quale ma sono rimasti su quello ok ho trovato un altro ragazzi aspettate che faccio l'oraculata una scimmia chiede rigolone di menta chiede ho qualche possibilità di sposare taylor swift non lo so impara a dire di no grazie mille lizard che ha grazie io non vedo sub ogni volta che sono triste no anche a me non le fai no perché questa non era sub questa ha switchato aspetta che volevo leggere come si può scampo e invece la L la L grazie mille lì siete gentilissimi quasi a livello 5 il coniglio e la semi era qua sopra ma l'ho perso grazie grazie camis è gentilissimo però non è un coniglio questo sembra un lupo è rimasto coniglio e simmia è sulla montagna e io ne ho una in mano ma mi sembra tipo un lupo ma si sa che tu non capisci niente li di qua e non rompere le palle sto arrivando grazie vino quello buono spegni sta sigaretta droga no fammi fumare questo torcione che animale è questo moro fammi vedere un po' no è un coniglio allora è palesemente un coniglio alle orecchie da coniglio certo mettilo qua nella scimmia però dai mettilo nella scimmia a vederlo così ti avrei detto un coglio un coglio un coglio un coglio un coglio però è sicuro che non manca la scimmia perché questa non è sì il coniglio andava bene qua quindi diretti fammi vedere che io sono riconoscire i Vesen fammi vedere aspetta ma questo è un topo sto arrivando sto arrivando sono è là ma dov'è lez ma che passa è un maiale anzi è un maiale c'è un maiale ma dov'è il look mi manca non lo so dove è quella vecchia balorda ma sì che è una scimmia lez palesemente vedi che bello grazie thunder grazie mille guarda 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 grazie che ci supportate bellissimi l'ho basso dal il palazzo c'è alzato il palazzo non posso mi sono accorto con la visuale di moro uff non posso vedere Marco che sodomizza Luke vabbè adesso non è che deve essere una cosa cazzi vostri basta con questo guardare i porno ma io non vedo Luke non posso sodomizzarlo non c'è ma cosa c'è c'è un tasto perché non c'è è entrato su discord eh ma per scherzo non è lui aspettiamolo dai un tasto secondo me non è un tasto dai aspettiamolo cioè no non è dentro Luke voglio aspettarlo ragazzi ma non è crashato per caso che li sarebbe attaccato si è attaccato sto incensiere porca miseria bambino altri cinque pazziti grazie bambino grazie belli ma come the black popò ma bambino ma scusi ma non è ancora vitto ancora a sinistra dai bambino non so io cosa bisogna fare qua dopo lo facciamo grazie bambino si che ci sono li visti anche mettere le stati ma che dici Luke ma dove sei Batman sei è un uomo invisibile ma dove sei messo qui sei appolleggiato da qualche parte tipo Batman ve lo dico io Luke perché non mi sei venuto ad abbracciare cos'è dobbiamo trovarlo e trova Luke o sei mimetizzato vatela vedere da cosa si travestito sto giro crea il content sarà una donna nuda un uomo nudo magari un panda ed è qua in mezzo questi panda finti non sono invisibili credo ma dove sei dici dove sei così ti diciamo se sei effettivamente invisibile o no perché potrebbe anche essere c'è una musica veramente sto per piangere non so se la sentite anche voi ma sto veramente per piangere accendolo in cielo non so se l'ho disattivata ma anche io non la sentivo l'altro continuo a non vederlo tocchi ho visto mettere le statue e intanto scrivi a modo ma non c'è ma guardate ma è quello lì ma porca miseria non lo vedi io ma guardate che deficiente di merda ero da scimmio attaccato al cazzo di bambù ciao Luke che bello che bello aspetta che ti soffoco col mio culo vieni qua quello è più bene però boh partiamo comunque ma gli stai tenendo il pisello e mettendo il culo in pace io non ci posso credere bellissimo andiamo Luke vabbè Marco fascinando in giro ma sei coso sei stato bellissimo perché mi sono avvicinato sto boschetto e c'era sto koala appiccicato a sta merda sei come si chiama Arambe Arambe sei Arambe de Paolo lo sapevo Marco che lo dicevi lo sapevo scusami scusami ero veramente lo saputo effettivamente effettivamente è una scimmia sembra un bradipo allora questo livello che si chiama legna tra l'altro sì ce ne sono due tra l'altro è permesso adesso prendo il letto e lo ribalto perché sono stufo non è un albergo questa casa avete capito prendo questo frigo lo spacco contro il muro hai capito oh perché questa casa non è un alberto come non è un albergo no fuori aspetta che siamo un attimo passionali fuori da casa mia fuori dalle palle c'è una leva ma fada già Aglieza è avanti è già finito il livello lo sapevo Aglieza sei solo qui fermo che siete lì siamo qua no siamo in sette qui dietro guarda che ti mi trovi con il mio braccio c'è un party un festino aia Marco Marco con Luke che cammina sul posto cosa sto facendo scappa la pipì Luke oh è buttato giù i tronchi ah ha ben salire sui tronchi sì 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 eh niente tutto c'era aspetta che avanzo piano piano aia il lizard ma non è che si riesca a stare molto subito ma io sono appeso da sotto eh no mi respawno bisogna ma basta aspettare vedi si crea la figa cosa si crea la figa Marco la figa la figa Marco la figa la figa va bene va bene ah ma no voilà no 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 wheezing mi cade il culo no no che pesante eh devo fare un po' di attrezzi allenamenti ma se il derry non serve a sblorare shield grazie mille siamo al 173% grazie di end amici 173% siete fantastici continuate così al vantaggio è tutto qua rambe siete la mia morfina adesso sono pazzo vi ricordo a tutti quelli che scusami sì mi sono incastrato ragazzi a due cazzo la mia adrenalina volevo dire porca miseria moro vieni qua ma io sto andando giusto ragazzi che cazzo ne sono non so neanche dove sei non mi vedete ma perché qui mi si impisella al pene ah mi sa che sono andato sbagliato io allora lezzar scendi da lì che poi ti cazzo neanche tu devo fare la catena per prendere oh eccomi eccomi ok no sono in ma è finito questo di fare la rambe volevo dire amici a tutti quelli che si sono incriccati con il pebe come si dice che si sono rinnovati la sub mi sono incastrato ragazzi ma dai moro dove sei? ma che problemi c'ha a sto livello tirami via tirami via grazie grazie andiamo da questa parte volevo dire a tutti quelli che hanno rinnovato la sub e tutti quelli che la rinnoveranno che mercoledì prossimo c'è la live solo per i sub in un gioco fenomenale dove Marco mi farà incazzare notevolmente io volevo dire certo sempre io e c'è una novità grazie Boccheri io volevo disattivare la musica comunque seguirete il future game show no non è takedown cosa vuol dire c'è il future game show no credo sia quello lì della play no del visore non è che intendono quello magari cos'è il future game show? ahia Marco il future game show è quello che c'è sempre da degli indie eh sì ma non adesso però in solito non è alle 3 ah ma ci sono le opzioni adesso tutto bene Fabri no comunque no fanno abbastanza c'è bisogno di incularmi voglio togliere questa musica per garantire ti andavo bene ti vedo bene ma dite che bisogna fare qualcosa qua ma eh ci ha fatto salire scusami allora lo so io bisogna andare bisogna andare là sopra bisogna andare ragazzi là quindi bisogna prendere quei travoni qua ma aspettami qua cosa c'è no non credo dobbiamo prendere i travoni questi qui travi grosse i travoni sono dei problemi sono dei remi non sono delle travi giganti no queste qua sono delle travi giganti ma quindi suomque non si dice travoni comunque non credo si dica travoni in ogni caso ma sono delle travi grandi eh sono delle travi grandi non credo esista il termine travoni se non inteso per altre cose eh non è un termine ma io vorrei sapere cosa intendi con le altre cose eh no i travoni sono i travoni si dice mai sentito dire no Liezar com'è possibile comunque se non ci sono no scusa non l'ho mai sentito dire se non ci sono persone transessuali qua non sono quelli ma vorrei sapere cosa intendi intendi i transessuali intendi eh ma quella è quella I Mark no si usa anche se non è vero non è vero mai sentito senza eh ma tu non l'hai sentito no non si usa anche si è senza anche se però comunque qui non ci sono chiaramente non abbiamo non credo neanche abbiamo senso e anche io Vector ricordo solo con la I in generale quindi tutti l'hanno sentito solo con la I eh si dice anche con la N a volte è vero eh ma aspetta siamo sicuri di portarlo sopra ma comunque ah ma aspetta ma quella grande trave eh di tua madre Marco eh ma figlio di bastard salvataggio chi? salvataggio da dove? ma dove? vabbè mi punto ha fatto il Yuki da qualche parte mi sa mi butta in acqua ma io l'ho sentito dire in tutti i modi in realtà ragazzi non è che c'è un modo come è arrivato come merda sei arrivato voglio arrivarci alla gentil maniera ah vabbè no ci sono i tronchi giustamente salti sul tronco con la trave ma la trave è quale? ma non è una trave non è una trave ma questa qua è una trave Marco no è una è una tegola è una cosa una tegola Marco è una cosa è un'asse bravo è un'asse non è una trave è una trave ma come ci arrivo che l'avete spostata lì in fondo Marco ammazzati eh no nel senso che poi rispondi non era un questa volta almeno non era ah ma aspetta ma scusami un affronto ecco qui c'è una barca ragazzi una sbrega una tavola una tavola di legno un tavolone amici posso dire una cosa per chi vorrà questo weekend sarò al Gardacon volevo andarci anch'io lo sai Corvo? sì volevo venire sì adesso ti faccio sapere lì allora lì dentro c'è una batteria l'avevo accennato a Franci ma poi non abbiamo più a fare il wrestling che sfiga Corvo e c'è anche la Domi anche lei fa il wrestling ma quello vero bisogna trovare dei cavi ormai tu sei anziano Corvo bisogna trovare i cavi sì c'è proprio non posso negare nulla di quello che hai appena detto allora che ormai sono quell'anziano cioè non è che basta Marco bisogna trovare dei cavi per far andare la batteria sì dimmi sto facendo un po' di trazione perché qua c'è un'altra scatolina da attaccare i cavi vado a esplorare io che qua dietro magari c'è una catacomba c'è qui c'è l'ascensore eccolo lì sabacu vuoi imbinar che non va mi piacerebbe che bisognava incastrato guardo sotto guardo sotto mi sa che dobbiamo fare aspetta lo mettiamo all'altro lato eccoci qua ah perché manca il lato ok qua via prego andiamo ditta traslochi ma dia c'è un vecchio video su youtube ancora ah la batteria devi andare più alla tua sinistra qui c'è un ponte da battere dove cazzo sei tu basta che vai a sinistra molto bene molto bene eccoci qui tutto come dovrebbe ah io e adesso e li stanno facendo i traslochi e quindi manca un cavo manca il cavo c'è due cavi aspetta l'avete trovato un cavo? no no ok perché ci serve anche qua un cavo qua c'è una mega sedia è la ditta traslochi bozza qui c'è un ponte da buttare sium 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 eh quello è uno shortcut for moissime moissime ah no non so ok ah è un bello shortcut mi piace questo level design allora vediamo un po' se c'è l'è ancora turgido si 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 no sono un po' oh tra l'altro se volete recuperarlo io moro oggi vi ho fatto una bella disammina sul trailer di ogre su legacy si dura un po' eh perché mi ha fatto quasi tre ore però a me non è piaciuto ho messo dislike eh hai fatto bene like dislike like ho preso una cetta non vi avvicinate che posso essere contundente se non tagliente forse essere vero e forse essere più allora una l'ho data eh sapevo che attivavo bene aspetta eh ma non devi rompere le finestre stai zitto Gli Ezzar che c'è il buco nella fessura qui c'è un cavo c'è un cavo stai attento Gli Ezzar che sto muovendo l'ascia stai attento ah sono Darth Vader non mi fai null ma chi l'ha detto se le risparicola più sto l'amore no che non l'hanno mai provato c'è l'armatura ma che armatura che di plastica gli Ezzar guarda quando è caduto nella lava ma spoglia non l'ho visto l'episodio 1 lì non aveva ancora l'armatura no tra l'altro no poi dopo glielo mettono è proprio per quello che glielo metto di qua c'è qualcosa no di qua c'è lo shortcut per scendere giù ok bad timing ok semplicemente bisogna attivare l'ascensore per essere successo l'altro cavo qua su un'arma contro un dente ora venite qua aspetta vi stavo provando a accettare la situazione proprio a sinistra dove siete dove c'è la torre di Sgullor dove c'è la torre aspetta che ho solo un piede sono a cavallo della mia ascia arrivo eccomi la sto usando come una broomstick ok con la porta distrutta corvo è caduto il corvo eh l'abbè già fatto scendi giù torna giù grazie prendi c'è un cesso lì secondo me li puoi sfondare con l'accetta quei cessi mi sono incastrato per sempre vabbè sono già aperti Yezar mi aiuti c'è tuta dura sono già aperti sono bene da qua sopra devo fare del parchiule impossibile passare da qui ah se l'ho fatta grazie fatti di trascinare dietro il cavo con tutto l'ambaradan like no dislike ok ah è ok stacassi andiamo di qua ma l'educato di una scimmia e però ci manca ancora il cavo blu ce l'ho no l'ha trovato sopra l'ha trovato era lì sopra arca bestia vicina sta batteria ditta di traslochi merda non c'era nessuno della ditta di traslochi ah voglio andare via ma Marco sei inutile come il culo senza il buco io te lo dico ma che vuoi da me la stava facendo Luke no no tu te ne sei lavato le mani come me ne lavo ma come l'hai girato eh qui la ditta traslochi non fa il suo lavoro io che non so ma eravamo io solo la ditta traslochi sono l'elettroticista io non faccio quelle cose abbiamo portato lì le robe a posto che ne vuoi no no hai sbagliato buco ho sbagliato colore forse è il momento di spargiare il sangue aspetta giriamolo meglio lascialo così ok così dovresti riuscire è partito ciao amici vado a stare in un posto migliore e gli altri ma torna giù l'ha salvato eccoci qua ma a me non dice io voglio fare questo adesso mi attacca tutti a me vabbè non importa ah 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 Ma è gigantesca questa parte, scusa eh? Senti che fa pss pss Guarda quanto grande sta parte Se non ce la facciamo fare tutte e due Eh, mi sa che laggiù c'è l'Eindel, la capitale C'è una musichetta, buonissima la musichetta Sei così per fare gli esercizi di boss Eh si, guarda, guarda eh Shuum! Eh, ci ho provato anch'io a fare shuum Bravi, bravi Ma io vado sopra, la faccio prima Marco, ma sei un genio, porca miseria Tirami giù il budellone qua Ah Ma è partito Bugs Bunny, cos'è la musica di Tom & Jerry qui? Marco, dai, tirami giù il biro rosa Penso a te che devo fare? Un pezzo di jazz Salta di qua e tirami giù lo scatolone Non so se ci arrivo di là, è bello lungo Eh, dai, non rompere le palle Eccoci qua Spingi giù lo scatolone, dall'altra parte magari Prego, prego, Simone Ok, ok, ok Ma mi sa che qua mi saldo in avanti però Andiamo a mettere nei tronchi Andiamo a mettere nei tronchi Non dobbiamo inserire qua Pura, forse qua puoi farlo da shortcut Aspetta che la mano Impostata Eh, questo però Questa è dura, eh Qua devi fare i zompettini veloci Fai i zompettini veloci Ah Chiesaro, ottimo Eh, vabbè, 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 come Takashi No, è vicinissimo Vabbè, ma ci può salire di qui Scusate Abbiamo messo la scatola No, San Pietro No, San Pietro lascialo dove? Che già una volta in FIFA L'abbiamo scomodato Burgo, Burgo Una certa parte E anche quella lasciala dove? Sì, la cappella Marco? No, no, prego, prego Io vado, eh Non capivo se sto tenendo Ah, ha salvato Ha salvato Non è certo Ma io non sto facendo No, sono pes- Perché ero a pecorizzato? Ah, 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 ah Sono caduto Chi è che ha la candida? Cos'è che ho letto in chat? Ma che cacchio dici? Questo è Candia? Ah, ok Eh? È un... Mr. Quest ha scritto Questo è Candia Dove c'è anche il percorso a ostacolo Non so cos'è Lì ci sono da prendere i ganci di Wailord Aspetta che... C'è un ascensore di Elder Ring, ragazzi Beh, ma c'è un tasto rosso Non è che bisogna portare il cavo Guarda Niente, non funziona Aspetta, 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 stai lì, stai lì che vanno a premere il cavo Ah, vai a premere il TAM Smed Eh, ma però... Come fai a farlo da su? Ah, però ha funzionato Perché è lento Con la calma Eh, oddio, non è che c'è I termosifoni si accorgeranno che stasera c'è davvero un Future Game Show? No, ma ci siamo accorti che c'è, ma non lo faremo No, anche perché non so... Facciamo Non l'hanno manco pubblicizzato mai nella vita Eh, vediamo se ci accorgeranno Non perderti per ascoltare i ganci Amici, mi avete incastrato sotto, aiuto Ma cosa prendi? Io sono curioso però Io quasi lo seguo No, lo seguiamo magari sì, ma non lo faremo Lo faccio, io lo faccio Ho preso un gancio, ragazzi Eh, io sono bloccato per sé Ma che sei, mo' il corvo ? Ho preso un gancio sopra Dalla... Ma appendo, eh Anch'io arrivo, eh, forse Ah, grazie mille Ma qui c'è una lanterna Grazie mille Fai Non riesco Eccomi SIUUUUUUUMM Stasera c'è l'Italia del gioco calcio Ah, sta già c'è l'Italia SIUUUUUMM Salvato, andiamo Ero scordato che c'era l'Italia pure, sta sera È bellissimo fare il momento Ma c'è col gaccio Eh, però non c'è altro C'è col gatte, sì Col gate No Ok Allora Ho le dita incastrate Ho la telecamera di Elder Ring Aspetta Che è quindi una merda Si No 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 Farò dieci il gioco Io non sapevate neanche la trama Non è facilissimo La trama si che la so La trama è una cazzata Lo svolgimento Anche lo svolgimento si sa Non lo so Avete fatto una live con gente che diceva No è così Dai ero arrivato Infatti era per la lore di Marco Il solito ignorante di merda Si si la lore Sempre la cazzo di ignoranza base Dei videogiochi Siete proprio dei fan tossici Qui ci sono anche i tronchi Continuate a saltare Di Dark Souls Ci ho provato ma mi cade all'ultimo Ci sono i tronchi di Miyazaki ragazzi Continuare a rimanere abbracciato a Luke Ma non è possibile Davai acquistato tutti i diritti Delle partite mondiali Poteva aspettare E vedere se l'Italia si qualificava Perché se l'Italia si qualifica Perde un sacco Eh no Ma li guardano lo stesso Sai che quando l'Italia Non si è qualificato Allo scorso mondiale È stato il mondiale Più complessivamente Più visto Ma perché la gente Se interessa il calcio Ma mi incastrano nelle foglie Mi incastrano nelle foglie Il calcio È meglio la figa Se c'è l'Italia Guardi solo l'Italia Se non c'è l'Italia Guardi tutto quello che ti capita La bastarda Luke Luke adesso me lo rimando indietro Rai se no mi incazzo Veloce che è arrivato Ciao amici Io arrivo a piedi Eh Marco Non credo Non ci sono i piedi Mi ammazzo allora No adesso arrivava Marco Potevi aspettare Eccoci qua Sono stato là dietro Tornato Ma perché non l'avevo Devi chiamare l'ascensore Si è chiamato io Sono caduto di nuovo Marco Tra l'altro amici Stasera ho mangiato Un pesce C'è veramente cagare Ma perché scivolo Non riesco a fare La ricciola E il salmone No Ma io non potrò mai Il salmone cotto Non lo apprezzo più di tanto Mi mangio la ricciola Non ti piace No cotto Lo preferisco Nature Cotto non lo apprezzo Non riesco più a passare Non c'è verso La ricciola faceva cagare Però Quindi ho detto Mamma per favore Merluzzo e via E la prossima volta Io stasera mangio Il pandriotto Solo quello Un merlu E' uguale No non riesco a passare Era un po' Gelatinoso Come pesce Qui c'è il meccanismo Per girare il molino Però non c'è nessun tasso Tanto c'è la short cats No è per andare avanti E' lo short cats Per andare avanti Infatti Io cosa ho detto E qui troverete Intanto Vediamo se è aperto Qui Questo ti compare La scritta Non si apre Da questo lato Qui c'è la freccia Che indica Il su No Il su Non so se il swim E' uno nuovo E' la via di mezzo Eh sì Quando è così così Il swim E' quando Aspetta un'altalena Questa Poi c'è anche il carimuis Questo è un'altalena C'è anche il msium No il E' difficile incastrarli tutti No 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 E però Il msui Il msui Il msui E' riproccato col legno Posso uscire dal merda qui? Esco dal cago eh E' come qua Ma ha fatto di pala di cessi Però non capisco cosa serve Perché di là dove ti porto? Eh Là sopra Ciao Mike No Ah per salire Eh ma per salire là Piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip che buoni meri mamma mia dove è andato? a me gli spinaci con limone mi fanno gola una cosa così semplice ma mi piacciono tanto a me piacciono... io... metto limone e formaggio io si fanno anche col burro io di solito limone e formaggio con limone e cotti mi piacciono un sacco i lischeri non ho idea di che cosa credo sia la barba dei frati cioè credo si chiami anche barba dei frati e io mangio il pugo dei frati mi ricordo sai che forse ce la si fa? un'altalena si grazie Mike aspetta dietro non t'ho visto mi scontro tutto ah non è anche saltato anche perché non ha salvato ancora e quindi gli agretti adesso vai avanti indietro si tranquillo vai vai marco vai brothers bella la barba dei frati la trovo nella birra perchè? ancora ancora si 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 faccio un bel po' ora ancora 1 o 2 insomma e poi giallo a incerti da po' SIUM! mi hai mentito il liezo eh ma più di così non facevo no no lo fa penso vada più di così ah beh ho salvato billy ciao billy jo esatto esatto fammi fare mi chiamo esattamente così perché fratella una birra e gli lasciano la barba fanno la birra e gli lasciano la barba non so marco ma stiamo qua noi pensavo di ucciderli ma quanto fare è bassa l'acqua quindi non io c'ho anche salvagente fium datemi dall'altra parte se dovete no devi occhi non arrivare proprio in cima in cima che sennò ti spari in alto e basta SIUIM mi è arrivato eccolo marco ti ho colpisato prima aspetta grazie guarda come l'ha salvato via mamma mia che schivata mamma mia che schivata si è buttato proprio nel biuco bellissimo arrivo anch'io eh fium 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 aia sono atterrato di talloni proprio mi si è firs armonicizzata tutta la non l'ha salvato ma sono ancora dall'altra parte del mondo no no sei qua siamo qua no muis mi son girato subito eh con il po' di reni tony reni eh si c'ha chilo nerto sicuri di metterli lì? ma si c'è un buco è l'unica cosa da fare però c'è da aprire anche una parentesi eh anche i pori della pena adult swim adulterio dammi qui cos'è l'adult swim poi vabbè ragazzi vado per voi eh come marco toni vado per voi anche se no mi si è incastrato il collo ragazzi ah swim di nuovo è extremely easy ormai luke santa miseria luke sto soffocando e la fine è per luke il sbatto ah no ahahahahahahahahahahah no l'avete spostato dai tranquilli 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 oh povero mercury ass adult swim ora era vivo per lei no no No, è la canzone originale che ho scritto ieri, mentre ero in preda a una crisi di merda. Mamma mia, però sta musica violonicellata fortissima. Amici, sono siummato via, io ve lo dico. Vedete il verso in alto, no? Eh, non ce la facevo. Amici, se non vi spiace, amici. Sì, sì, mi spiace. Fortnite è Fortnite questo, sì, sì. È la zipline, vedi, ho preso. Vabbè, no? Hai, Duke? Amici, tra l'altro, ridendo e scherzando, si è uscita una notizia che Fortnite potrebbe mantenere la modalità senza costruzione. Come modalità a parte, come dicevamo. Però si sa, in realtà. Grazie, Chiara. Perché a quanto pare la stanno giocando in tantissimi. Grazie, Chiara. La gente si è un po' rotto le balle. No, più che altro si sono accorti che faceva cagare costruire una merda, una diarrea di schifo, un orrore. Ragazzi, ma credo non arriverà mai. No, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Uno a merda, Fortnite con costruire tutti i palazzi di falli, i cazzi di gomma, di durezza. Basta! Amici, sono Masuda! Così sono rimasto sotto, sono rimasto. Aiuto. L'altro è rimasto in casa. La voglia di Luke, sono dei... A questo punto è meglio parlo, perché non è meglio di niente. C'era Apex e Warzone piuttosto, scusami, perché proprio... Attualmente Apex, Warzone è andato... No, sono incastrato! Attualmente Apex è quello più giusto. Poi anche Apex ha i suoi problemi, come ogni BR, però. Ma sono letteralmente incastrato. Come rispondo? Allora, ok, a posto. Mark, dove sei tu? Sono qua, di fianco a Moro, io. Ah, sei già andato su. Anche perché se spari uno diventa un muratore bergamasco in tre secondi. Contando di bestemmia, tra l'altro. Luke, io mi sono preso a te, tu ti sei staccato, sono rimasto qua. Ma quindi dobbiamo andare dietro noi? No. Io voglio un Moro Portail. Quest'uomo mi fa pisciare. Non so cos'è un Moro Portail, però. Luke, ma che fai? Che fai? Luke, non lo fare. No, mi sgonfio. Luke, non lo fare, Luke. Ma è Corvo? Luke, non lo fare. Non ti vuole appendermi la ruota, manodio. Eh, mi sa che bisogna. Corvo, appenditi... Ah, c'è la cassa. Appenditi a Kist. Ah, aiuto. Non ho visto il braccio cosa indicava, fammi vedere ora. Eh, aspetta eh, appenditi a Kist. Ah, ok. Non è così qua. Va bene, no, non l'ho mancato. No, quello è il braccio. Non è un altro arto, un altro arto. Non credo funzioni così. Così? Ecco, così credo. Più o meno è un bottone, però arriva fino lì delle volte. Eh beh, infatti. Allora... Cosa state facendo? Possiedimi, Luke. Allora... Questa è una mossa famosa nel Kama Sutra, eh. Si chiama... Wuhuuu! Ma hai tirato i capelli! Ma hanno credito funzioni così! Sì, sì, vai nell'accampamento di là. Aspetta, Luke, voglio fare un visto. Ahia, mi hai mai tirato per i capelli. Io non sto facendo niente. Quindi bisogna farlo da di qua. Non è un po' di qua. Non è un po' di qua. Complimenti! Complimenti! No, no, Arlem, no, no. Ma che schifo! Vede, Arlem! Ma che schifo! Dai più credito alle tue capacità, va bene, dai, Arlem. Ok. Io ci sono. Cosa! È stato bellissimo! È stato bellissimo! Però non sta salvando. Aspetta, no, quella è la mia testa. Ah, le sono salvato! Ma le sono salvato! Mi ha incastrato, perché lo sta lasciando? Ma non l'ho capito! Ah, ma perché c'ho la mano nel culo di Luke? Ah, eh! Ma sono arrivato io! Ma sono qui! Eh sì, perché ha salvato. Ah, ma adesso c'è da fare con le canone! Con le rapide! Con le rapide! Non c'ho più voglia, Luke, vai pure. Posso farmi? C'è la cosa con le rapide? Facciamoci una pausetta in tenda, per favore. Bellissimo! Io mi faccio una pausa in tenda, eh. Che pin! Ma una sola, ne usiamo una? Ah, una bella pausa. È complicata, è la situazione. Io voglio stare in punta! Di chi? Della punta. Beh, lasciamo qua a Moro, noi andiamo. Umberto, ecco... Ma qualcuno deve spingere, però. Spingo io, dai. Ma solo un ramo? Luke, io non posso... Luke, apri pazienza, Luke! Calmati, calmati! Calmati, Luke! Calmati! Non si calma! Luke! Non si calma! Non si calma, ramme! Non si calma! Guarda, ingestibile! Che bello, morendi che... Di qua, e di là! Di qua, e di là! Faccio anch'io! Via, e di qua, e di là! Ecco, tira! 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 Sium! Moïs! 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 Non riesco a salire! Non riesco a salire! Marco, il cane! Il cane in acqua, ragazzi! Il cane in acqua! Vai, spingete! Non... Non fate... Bittuare quel remo, che non serve! Buttalo! Mi sdraio! Tentiamoci, teniamoci che... Mi sdraio! L'albero! L'albero! Giù! Giù, Giulien! Vedi che ho fatto bene? Giulien, Giulien! A sinistra! Oh, bottas! Cazzo, c'ha il... Butta via sto remo, corvo! E... Posso girare, però! Non girare! No, non gira... Disponde! Ma va da solo, esatto! Butta via sto remo, butta via! Il canotto! No, da me! No, stiamo andando al contrario! No, beh, ma la punta è ambi di... Butta via sto remo, butta via! Vado ne! Fermo, fermo, mi attacco il signore qui, eh! Marrone, ho confuso! No, nel senso che prego, un attacco asiastico! Sì! Oh, no! Che botta! Dovamo scendere qua a mezzagliare! Eh, vedo una cascata! Non c'è il cuore! Grazie! 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 I gandali, no, Marco! I sandali della pace! Eh, sì! Eccoci, grazie! Ma quanto... Child of Lilith, comunque! Tanto lungo! Sto lungo, tranquillo! Scusa, io volevo prendermi al pontile! Un demone, quindi, cioè il Love Lilith! Ho un... Marco, ogni volta che dici Moise... Ah, muovo! È una Moise! Muovo la... La gru! Ah, devo andare a prendere altri Pizzel, quindi! Aspetta! Va bene, Marco! Sono inciampato sullo scettro del continuum! Ezzar, che cazzo giri? Gira di più! Ui, i tromboni! E ti sta andando una sola, quindi! Uhuh! Ah! No, di più? Devo salirci! Ancora? Dimmi tu stop, perché io non vedo! Io sono arrivato di qua, eh! Adesso cosa faccio con questo? Sono arrivato qui, ragazzi! Perché gira anche l'altra, da quello che vedo! Eh, ok! Aspetta che vi alzo questa! Infatti, sto pulsante è fake! No, forse sollevi, abbassi il... Tu con la bocca, Marco! No, no, no! Il pulsante, non sopevo un cazzo! Eccoci qua! In giù! Cosa succede? Ah, che muovi quello di... Quegli altri due stai muovendo! Ok! Usteria! Allora, bisogna... Ha salvato! Ho sbattuto la cappella! Che ha salvato? Perché io sono fantastico! Ah, perché bisogna arrivare di... Ah, bisogna creare i punti con i... Aspetta! Corvo, fammi girare di nuovo! Fai qua! Arrivo! Fammi girare di nuovo che arrivo dritto! Qua c'è un pulsante verde! SANTEE! Ah, ma ha salvato qua! Saluto a SANTE! Ok, dobbiamo creare il ponte lì! Sta girando! Il ponte ponente! No, aspetta, fallo! Portalo di qua! Portalo di qua! Allo pene! Fallo! Allo pene! No, sta girando solo quello là in fondo! E non sta succedendo niente! Adesso sì! Adesso sta girando! Ah, lo sto premendo... Sto premendo anche di qua in contemporanea! No, aspetta, fermo, fermo, fermo! Ok, vai! Da me sta continuando a girare, anche se non sto più premendo! È il problema che dovremmo essere sopra! Ok, io sono sopra! Moro quasi! Eh, ma il problema è che bisogna andare in quello là! Ragazzi, come... Ah! No, 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 no! Ah, ah! Aia, aia, aia la testa! Aspetta, aspetta! Aspetta, Marco, fermo! Salite, salite un po'! Aspetta, salchio, eh! Vai, salite tutti! Salite tutti! Salchio! Eccomi qua, sono salghietto! Mi attacco al pacco! È caduto il collo, ragazzi! È morca miniera, ma... Scherzi il pulsante e la gru non gira! Siete sopra, ragazzi! Ah, se scherzi il pulsante e la gru non gira, ok! Aspetta! Ma questo verde? Ah, salite proprio sopra! Mettevi quei piedi sopra, come Moro! No, ma non ti tiro come andare tutti, perché se no si sbilancia! Allora, vado, eh! Vai, fanno andare! No, bloccalo qua! Bloccalo esattamente nel punto, sì! Aspetta! No, ancora un po'! Ancora, ancora, ancora! No! Ancora un po'! Ok, così! No, fai fare tutto il giro! No, no, aspetta, 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 aspetta! L'attacco del Mews! Ok! No, fai... E io non ne posso... Io non posso fare più niente qua! Ah, vabbè, tanto... Adesso, qua, vedi, eh, fatto! Mi butto giù, Vincent Salgado! Qua c'è da fare la gara! Facciare la gara! Facciare la gara! Però è solo da tre! Io non voglio fare la gara! Sono un tipo che ha già vinto! Nella vita! Sì! Muis, sium! Muis! Dai, ai vostri porti, eh! Dai, la faccio, allora! Vedi, Marco, subito... Eh, sono competitivo, dai! Io la faccio in... Scoppia con me! Va bene, allora... 3, 2, 1... Muis! No! Ma ho preso... Sono partito solo! Credo che Corvo mi ha... Sono partito solo io! Credo, eh, però... Ho vinto, ragazzi! Ma neanche mi ha aspettato! Ho andato via! Campione del Fury! Allora, Corvo mi ha preso per i capelli, mi ha fatto cadere... E poi è partito da solo! Non mi voleva! Va bene! E io pensavo fossi già attaccato! Campione del FUS, ragazzi! Non mi sembra, amore, io sono già qua! Quindi non credo pronto! No, Marco, io non credo! Allora, Liezar, questo va staccato... Allora, qui ci sono i travoni! Di Minecraft, nel senso tempo! Vero? Ci sono queste grandi travi, Marco! Sì! Forse bisogna farci qualcosa! Ma queste sono travi, più o meno! Potremmo fare il ponto, lì! Eh, perché queste sono travi quelle di prima, no? Perché travi di lei! Queste sono proprio travi! Sono a forma di trave! Quella altra è una tavola! Che assoluto sono a forma di trave! La trave è una trave, mo! Non è che una trave è un pezzo! La trave è una trave! Di qua? Eccoci qua! E quindi non servono a niente tutte quelle cose che vengono! Qui c'è la lanterna! La prendo io la lanterna! Ma non credo serva nulla! Ma poi se lo serve andare avanti! La trave cosa significa? Aspetta! Le assi sono le assi! Le travi sono le travi! Su quelle del soffitto! Può essere, per verità, però può anche non essere! Quelle per terra grandi non sono travi! Ma no, aspetta! Qua è la parte di sotto, dove siamo stati prima! Non sono assi! Ma gli assi sono quelli delle carte, Marco! Anche? Ma io ho fatto... Non so se ho citato... Sta diventando chiaramente un... Ma scusate, ma dove siete? Mi sono girato, sono da solo! Io ho continuato a seguire la montagna! Marco, ma con la lanterna che sta andando in cerca nella nebbia più totale! Ma dove siete? Dove stai andando? Eh, non so... Ma non credo si vada lì! Ma allora, perché... Noi ci sono andato, ragazzi! E qua è giusto? A un certo punto... Seguite tutta la montagna! Ah, sì, sì, andiamo, andiamo! Con l'anternino a cercare, perso, in mezzo alle lande desolate! Però non so se si va avanti, poi... L'asse rettangolare, esatto! Non lo so, per me per questa musica... Tra poco devono partire dei titoli finali! No, state attenti! Muis! Muis! No, la trave è quadrata! La trave è... Perché non è piatta, semplice! Non serviva un cazzo di qua! Forse di qui? Arrivo con la lanterna, moro! Moro, che cosa? Ma porca bestia! Ma porca miseria! Ma poi non mi fa neanche respawnare! Sono per sempre incastrato da qui! No, sono sotto il... Ah, no, ecco qua! Sotto nel... Ma da qui dietro ci fa risalire! No, non ho la mia trave di pollici! Di qua non si può salire! Sì, mi sali sì! È che io faccio... Lavorare in un mobilificio, mica in un... In una traveria! In una serie... Beh, le assi le facevamo pure! Secondo me è sbagliato quello che stiamo facendo! Sì, non è... Non credo sia previsto... Eh, ma scusami, però è veramente una scalata... Eh sì, però... Di quelle... C'è anche la lanterna da prendere! Si è Ux! No, le assi d'Ux! Ok, sono proprio in cima alla montagna! Non voglio sapere cosa sono le assi d'Ux! Non... Le assi d'Ux! E' quella che ha fatto... Come si chiama quel gioco di merda di Kojima? Death Stranding! Death Stranding! Vabbè! Meglio di Elder Ring, comunque, secondo me... Death Stranding! Eh... sì! Almeno la trama l'ho capita! Non è vero, Marco! Eh, quella l'ho solo guardata e l'ho capita! È bella! Per cortesia? No, certo! Non ti cortesisco! Ma quindi era strusta... Sì, ho trovato l'uscita! Ho trovato l'uscita! Aspetta, Migliezar! Che devo portare la... Guite continuamente la montagna Fino ad arrivare in cima E poi vi buttate giù Aspetta che devo portare la lanterna Ma allora siamo sbagliati, Corvo! Ah, la lanterna è dietro di me! Però vuole andare in avanti! Ha una volontà propria! Rapid! Le assi um! Arrivo, eh! Un po' lungo questo tragico Io non vi vedo ancora! E quanto hai camminato! Eh ma perché no, perché adesso sono sceso Quindi non vedo più Riuscirò a leggere almeno dieci minuti senza ridere domenica Dobbiamo passare... Termos Perché devi leggere? D'altro un po' Diablo è... No, dove reggere dove ormai io non so leggere Quindi, Diablo, non mi rompere i coglioni adesso Non vedi che è una lanterna in mano? No, io non ho capito Ma aspetta Mi butto giù Ma lieta, guarda che tu hai detto Vai in cima alla montagna Ma anche di là E viva lo scontro, Diablo Non muovetevi Aspettatemi lì Là c'è una zippla Tu hai fatto la zippla in giù No, no, no Non ho fatto nessuna zippla E allora hai sbagliato strada No, venite No, non posso venire Sono da tutt'altra parte No, secondo me sei tornato indietro Non posso Essere tornato indietro Questa cosa Non la c'è Ragazzi, no Ma non li buttati giù No, quello lì è veramente il È l'albero Devo fare la cacca Ma sempre Human Fall Flat Devo fare la cacca Ma ora, buttati giù Adesso mi butto giù Quello lì era l'albero di sapone Allora, aspettiamolo qua Ah, guarda Laggiù c'è Kyled Comunque l'uscita era di fronte A dove l'ha salvato l'ultima volta Sì Però devi fare tutto il giro Usa lì a zippla Eccoci qua Aspetta, aspettiamo Moro E sono qua Aspettiamo nascosti qua dietro Facciamo un video scherzone Sono qui dove c'è Luke Che sta provando a fare No, ritorna su L'involtino primavera Vabbè, ma stai arrivando Gira erano di più In quell'involtino Dai, sali, scarsone Dai, veloce, su Ma muovi quelle gambe Le miei tempi Le facevamo a piedi uniti Forza Ma che scemo Eccomi, eccomi Off Che z'hanno perso di nuovo Ma vabbè, la strada era quella giusta Era, ragazzi Eh sì, ma poi dopo hai sbagliato No, tu hai sbagliato Io sono arrivato Poi mi hai detto Buttati Ero cracco Carlo Crack E non lo so perché viazzare avessero da Nico Bellic Sinceramente Ma povera Ce l'ho da tre anni Scusa Ma perché si avessero da Nico Bellic Diccelo adesso E gli piace Gli piace Uncharted 4 che è GTA Uncharted 4 Uncharted 4 con Nico Bellic Pensa che schifo Pensa che schifo Posso dire che questa qui secondo me è una gran cazzata Secondo me Ma io Corvo eravamo esattamente nella stessa parte ma parallela Sì, è vero E non sembrava la parte giusta Poi non so Ah, eccolo il buco Qui sotto, ragazzi C'è l'Elder Ring, tra l'altro C'è l'uscita d'emergenza C'è scritto No, mi sono impiccato Allora, prendiamoci per mano Prendiamoci per Mario E al tre Ci buttiamo Aspetta, dov'è Luke? Eh, stava facendo lo zigzagone Stava cercando di giocare per davvero Luke Ma Luke è ancora là Allora, mettiammi per mano Luke è facilmente ignorabile Achiappiamoci tutti dai fianchi Che ce li abbiamo belli larghi Allora Siamo Dai, al tre ci buttiamo Sono caduto Eccoci, proprio al tre E abbiamo Dovrutto E che iniziare l'altro livello adesso No, adesso lo iniziamo E non rompire le palle Mi hai promesso due livelli Lo facciamo Ma è lunghissimo Se è lungo come questo Non lo finiamo qui Meno che non ci sono Però effettivamente sarebbe bello farlo Sarebbe bello farlo settimana prova Eh, ma fai Fami vedere Fami vedere qua sopra Zitti L'altro, l'altro Si chiama Red Rock Red Rock Si chiama Esploriamo un attimo qua La lomba Sì, fai vedere qua Sì, sì Fai vedere qua Cosa c'è? Fa vedere Una lanterna verza È verde quindi Io voglio provare a salire là Perché siccome si può salire sulla nuvola là Andiamo sulla montagna più alta Dai Fatta Io voglio salire sulla ruota panoramica Bisogna farlo adesso È ormai Non è una ruota panoramica Corvo Come no No Certo che è una ruota panoramica Ragazzi Aspetta che caso eh Lo rifaccio Ragazzi C'era la testa di scimmia C'era il deltaplano La testa di Shai C'era il deltaplano Ragazzi sono sulla ruota panoramica Sì Guarda volo Ma che bello è stare sulla ruota Voglio stare per sempre qui Ma anch'io ma non appeso magari Ci vorremmo No io sono dentro Dentro la casettina Sono incastrato Sono Muis Muis Sono incastrato qua C'è miseria Mi sono appecorizzato Sulla nuvoletà Sono in alto Ma sopra c'è roba incredibile Corvo Ah qua guarda C'è il tamburo di pane Guarda lo vedi C'è un'isola di Caio Che è Ma sì E ci sono degli spaghi da prendere Da far usare Dove? Ci sono degli spaghetti rossi giganti Bisogna prenderli e andar via Si sembra tipo un otto volante L'ho trovato forse Cerchiamo l'inizio Aspetta aspetta Forse ho capito Corvo Dove sei? Via alle panze Ma l'ho trovata la rotaia ragazzi Arrivo arrivo Venite qua Allora venite di fianco alla rota panoramica Tutti venite qua Aspetta Marco Ah c'era il trenino Sì è vero che c'era il trenino Dai dai venite Il gong del sesso era questo ragazzi Arrivo Di Scrubs Dai dai che c'è la rotaia Tutti qua Corro Se non posso uscire dalla ruota panoramica Corro con estrema disinvoltura Marco Ma si può fare Non premere il tasto lì è ormai Ma prima l'ho premuto ma non andavo No è perché non c'eravamo dentro forse Ah forse Allora aspetta salite tutti poi Eccomi dove siete Corro eh Corro Sinistra 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 Eccoci qua Moro e buonanotte La prossima volta ci rivediamo Poi ne parliamo meglio Eccolo l'altro pirla Aspetta che ritorno Non toccate il tasto Non toccate il tasto Dov'è Luke? Dov'è Luke? Voglio Luke No troppo Eccolo Luke Vieni Aspetta che cosa? Aspetta che Perché Luke Voglio Luke Con la sua scimmia E' perché Agilità incorporata Vieni Luke Vieni Mi diverto di più Aspettatemi amici Aspettatemi Giazzar poi ti devi lanciare C'è una certa Ma non so se funziona Mi incazzo come una biscia No no per forza Funziona questo Vai vai Statistica però No dobbiamo capire come funziona ragazzi Io avevo schiacciato un tasto l'altra volta Ed era partito Prima di iniziare Ma aspettate Non è che dobbiamo rimettere Che è successo? Ah perché Devi riuscire a salire Sì perché dovevo riuscire a salire Mi tengo fortissimo ragazzi Oh che bellezza Ma lì c'è un buco dentro Sì Ah no perché la cascata E' una cascata ragazzi Ma Luke c'è bisogno di ingropparmi Qui c'hai la riga del sedere bro Ma sta strucciando tutta la faccia Si è rovinato tutto Amici tenetevi Eh tenetevi perché qui Moïs Moïs Ragazzi tenetevi Ragazzi tenetevi E' bellissima Voglio una mappa fatta solo di trenini Ora c'è un punto a corso sulla montagnetta Sì Amici tutto bene lì dietro? Fighe Ma il corvo è palesemente impiccato ragazzi No io sono proprio sciallo Allora adesso la prossima è bella lunga eh Dobbiamo stare in perpendicolari un bel po' ragazzi Ma poi perché un pesce dovrebbe fare il rumore di un treno? Va bene Moro andiamo avanti adesso però Su 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 appendetemi Va un po' lento Adesso qui fatica Ma dopo c'è tutto il Ecco lì treno Marco Ma dici che si ferma lassù per far la tappa Pipì o? Secondo me si e poi dopo c'è Guarda cosa c'è da far dopo L'ho visto visto No lo dobbiamo fare vi prego No lo dobbiamo fare vi prego Guarda come volo guarda come volo Guarda come volo Mi sto vedendo dal basso Ragazzi parte subito Moïs Oh il corvo maledizione C'ho le palle in faccia corvo Aiuto Aiuto ragazzi Adesso ce l'ho io Adesso ce l'ho io No no le palle nel culo Aiuto Lyuk cosa succede Abbiamo cambiato Cosa succede Marco dov'è? Ma come fa Marco a essere nello stesso posto da prima Aiuto ragazzi Mi impicco Mi impicco Cosa succede Quanto manca alla fine Quanto manca alla fine Ma non c'erano le cinture di sicurità Non tengo più le mani Allora stiamo andando a Narnia adesso Ma sott'acqua Lì c'è un pezzo sott'acqua Bellissimo Lyuk Lyuk non so come faccio a star così Non si può stare così È possibile Ok Siamo nello stesso posto Blu blu Voi un mio nonno Non so Sono sciacquato le balle Volevo dire Voi un mio nonno Siamo arrivati Siamo arrivati No ripartite Voglio andare Voglio andare il coso sopra Eh dobbiamo fermarci Salisopra Lyuk Eh ci buttiamo al volo Bisogna buttarci lì Eh sì Ricapezzatevi Non c'era capezzolato Lyuk Lyuk Lieser tieniti Adesso parte Oh mio lord No Come mi appendo Ho le braccia imponite Io sto inculando qua Ma le sto facendo Sentire il palcone Mi si è stretto un po' il bius Eh a me no Amici forse non sono appeso Se cado lì davanti Sapete perché Non riesco a capire Se sono appeso Sono appeso Sono appeso Io vedo il culo Vedo Sì 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 Sarei già caduto Dov'è che dobbiamo Eh dobbiamo lanciare Sopra Dopo Dopo la salitona C'è da Bisogna buttarsi giù subito Eh sì perché poi Prende fuoco tutto E parti Con la salita muis Eh Papà 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 Che sembravi Pascio lasciare Esatto No non ti lasciare Ti tieni mi capello Lyuk non ti girare Con quella faccia Non ti girare La faccia larga Ti salgo moro Allora Sì Controllo io Siete pronti ragazzi Sì Si può rimanere Ok Occhio Ragazzi mi fa male il muso Il muis Ti devi levare Corvo Eh come faccio Amici mi fa male il muso Siamo quasi eh Levati Il treno sta per rompersi Questa giorno te è incinto Leati Leati Sium No non ce ne vado Amici sono per sempre Grandissimi Grandissimi No ragazzi Sono appeso Devo continuare Sfigati Ah ma si può aprire Aspetta qui si può aprire il piccone Ma io sono Io sono Aiuto Io sono appeso di fuori Aiuto Andiamo a vedere qui Puoi suonare il bong Se vuoi Sì Ma è aperto il Amici ma non finisce lì Mi capisco C'è un bong Un altro Un bong Una teiera Bisogna metterci qui dentro Una torcia Secondo me Una topa Bisogna mettere Il torcia Il torcia c'è non sotto Però come le porti Oddio Ma dove spawno Ah normale Sulla terra Sulla terra Sulla terra Ferma Ma quindi l'unico modo È far quel lavoro lì Eh mi sa lì No Ah vedi sopra c'è Ah no no Bisogna mettere le robe dentro Amici ma io sto volando col carapendio E ma è una teca questa Dove è No no la teca Devi mettere questo qui Esatto Tipo lo metto dentro L'altro fa Ok Sotto c'è il torcione qua E cosa fa No non c'è bisogno del torcione Cosa hai messo Ho messo la cupola E' uscito fuori Un lui Per uscire un bastone Un bastone Il bastone di Goku Che è qua E adesso ci metto il ventaglio Sì E col ventaglio Mi dovrebbe dare E che ci faccio Una foglia Eccolo qua Non faccio niente col bastone Però la telecamera Eh Miyazaki Ma sono gli stessi oggetti Che sono qua Nella teca E io cosa Con l'ombrello Ti dovrebbe uscire L'ombrello aperto Eh non vuoi l'ombrello Ah vedi adesso è iniziato a piovere poi E' vero È iniziato a piovere Infatti adesso Ah ma ha dato un Un'ace di loging Qua non la posso mettere Muissiù muissiù Ahissi Stavo arrivando col treni Abbiamo fatto la cinta E' da fare questo E' stato finito Oh Ma Moro Oh Ho volato giù Oh son partito su Che ho volato giù Oh sono vola Ah lo vedo Voglio farlo anch'io E il bastone L'altro cosa fanno quindi Ma voi avete Avete preso La mulla Ah ma hai preso il delta coso Moro No ho preso l'ombrello Di pattinson Eh fa lo stessa cosa Di quello che ho preso io Ma qui c'è una barca Però eh Qui si può usare una barca E' vero Si è allagato adesso Si Si è allagato Chi è che si è allagato No non è vero No qua dove c'è la Ragazzi ma si poteva salire A mani nude qua Ah no Come? Eh sopra Sto salendo Eh Ah poi non puoi più Di qui Ma dove c'era la neve C'era niente Ehm No Sono delle palle Ah che non ci sono mai stato Qui Ah c'era una La best Bestia che figura Che ho fatto Spaccato in mezzo Le spacchie Oh merda Adesso come cazzo Mi muovo da qui Ma che sono Sono arrivato su io Ragazzi Sono per sempre Nel verdoglio io Vabbè ragazzi Ehm Abbiamo finito Direi che Da qui non mi posso più muovere Quindi Possiamo Possiamo decretare La vittoria del Soffoco Della Selerantana Ah ma tu sei entrato qua dentro Soffoco ragazzi Soffoco Come hai fatto ad entrare lì dentro Soffoco ragazzi Sono capitano Amendola Soffoco ragazzi Chi sei? Soffoco Sono in mezzo Negli alberi Per sempre lì Per sempre Io sarei ancora sul trenino Che sta andando No io sono sopra Sono sopra E chi è che sul treno? Ah è la Cambio scena Ah è il drago Il paterno Bene Sì di una prossima Facciamo l'altro livello Che sembra Interessante Sembra interessante Molto carino Molto carino Sono infilato in mezzo Sì sono anche belli lunghi Più che il livello La lobby Mi piace un sacco Era più bella Del livello Ma il livello dopo Sembra molto figo Assolutamente Il livello che abbiamo fatto Era un po' una merdina Come enigmi Ma quello dopo Sembra molto interessante Amici Dai Ci vediamo Domani mattina Non è vero Con Mark e basta Domani mattina c'è Kirby C'è Marco con il day one di Kirby Domani sera Vi ricordo che Facciamo due ore di live Con Tinny Tynas Wonderland Non vedo l'ora Tinny Tynas E poi di notte A mezzanotte C'è il Moro by Night Dove faccio costruire Tokyo 3 day one 3 day one 3 day one 3 day one Mi raccomando Siateci Siateci Ciao belli Vi lasciamo con la live Di Marco Gattuso In arte Filippo Mi pare Filippo Droga Mi sembra Sì Andate a salutare Dite Muissi No basta Ciao gatto In arte Filippo Ciao belli A domani mattina